Il Museo Arkeologico del Castello di Torre si è arricchito con l'apertura di 5 ultime sale, dando così pieno compimento al percorso di progettazione, ideazione, restauro e allestimento della struttura culturale cittadina finanziato dal Comune di Pordenone, con la collaborazione della Soprintendenza dei Beni Arkeologici del Friuli Venezia Giulia. Le nuove 5 sale riguardano in particolare l'Alto Medioevo, i Castelli di Torre, Caneva e Meduno, il Conte Giuseppe di Ragonia e comprende anche due collezioni extra regionali. La visita all'Arkeo Museo sarà ancora più gradevole grazie ad allestimenti suggestivi e innovativi. L'assessore comunale Claudio Cattaruzza. Diciamo che quello di oggi è un lieto evento perché il Museo Arkeologico finalmente si presenterà in tutta la sua completezza con il completamento delle ultime 5 sale e quindi questa è una nota assolutamente positiva che ci rende felici e che dà ad uno dei luoghi più suggestivi della nostra città una caratterizzazione ancora maggiore per cui l'invito a tutti i visitatori di venirlo a vedere perché effettivamente il Museo Arkeologico si fa guardare molto bene. L'inaugurazione del Museo Arkeologico l'abbiamo voluta fare a posto per far rientrare l'iniziativa dell'estate in città per dar modo a tutto il pubblico di potervi partecipare e essere presente ma gli appuntamenti di estate in città non finiscono qui. Ricordo a tutti che domenica riprendono i concerti aperitivo con un formidabile ensemble di sassofoni di varie generazioni di varietà ragazzi del Conservatorio di Udine che faranno sicuramente un'interpretazione strepitosa. Ricordo inoltre che fino al 14 di luglio è stata prorogata la mostra di Armando Pizzinato alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea presso Villa Galvani e quindi anche questo è un invito rivolto a tutti per potersi gustare uno delle preziose gemme della stagione culturale della nostra città.